Chiusa dietro i cancelli delle trigioni c'è una folla anonima di uomini e di ragazzi che avrebbero potuto essere dei buoni cittadini, una folla che gremisce gli istituti di pena e che costa ogni anno decine di miliardi al paese. Chi sono costoro? Come sono giunti qui? Molti di loro sono cresciuti in zone sovraffollate dove non esiste lo spazio sufficiente per dei giochi decenti. Cresciuti questi ragazzi non sanno dove andare e finiscono col mettersi nei guai. La notte è pericolosa per i giovani. Ogni avventura notturna può essere un trabocchetto se i genitori non si curano dei figli. Ci sono anche persone poco scrupolose che violando la legge fanno lavorare le loro giovani dipendenti fino a tardi e in ambienti poco raccomandabili. Ma oltre l'ambiente esterno per i bambini è anche importantissima la vita familiare. Se un bambino è infelice a casa sua le cose possono finir male. La vita emotiva di un bambino è come un placido fiume. Finché la famiglia può fornirgli l'ambiente emotivo così importante per lui, il fiume scorre tranquillo. Ma se il bambino non trova a casa sua ciò di cui ha bisogno, è per lui facile cedere alle seduzioni di una vita disonesta e sfracellarsi sugli scogli del delitto. I ragazzi insoddisfatti si sentono più a loro agio per la strada, coi loro amici. È una compagnia che compensa la mancanza di affetti familiari. I compagni ammirano il capo, il più audace, il primo a tentare l'avventura anche se piccola. E più tardi quando si passa a cose più grosse i ragazzi cominciano a pensare che non c'è niente di più eccitante, veramente pericoloso. Ma queste imprese finiscono sempre nello stesso modo. La società può rinchiudere i giovani delinquenti ma rinchiuderli non significa curarli. Sono proprio le comunità che devono combattere la delinquenza giovanile. Prima di tutto ci vogliono famiglie sane. È necessaria anche una buona educazione religiosa. A scuola i bambini imparano a vivere insieme. Un polizioto intelligente può aiutare a tenere i ragazzi sulla buona strada e dappertutto le varie associazioni possono contribuire a quest'opera. Ma nonostante tutto lo spettro della delinquenza è sempre presente in ogni comunità. La lotta non organizzata, gli attacchi singoli hanno un effetto limitato. Soltanto quando tutte le porte del bene riuniscono le proprie energie e dimenticando le rivalità si può sperare in una vittoria definitiva sulla delinquenza. La prima cosa da fare è di organizzare una campagna dettagliata. I personaggi più in vista di ciascuna comunità devono riunirsi e chiedere il parere di esperti come ad esempio Emmett Gaun, presidente della commissione per la gioventù dello stato di New York. Tutti devono prendere parte alla campagna, non solo gli adulti ma anche i giovani devono dirla loro. Per avere successo in una campagna contro la delinquenza giovanile bisogna basare la lotta su alcuni principi che vorremmo chiamare la carta dei diritti dei bambini. Prima di tutto la famiglia. Non c'è niente che possa sostituire la famiglia. Ricchi o poveri tutti i bambini hanno diritto all'amore e alla comprensione dei genitori. Quando i bambini si sentono circondati di affetto, quando possono divertirsi e insieme avere la loro parte di responsabilità non occorrono di solito altri sfoghi emotivi. La chiesa. Tutti i bambini dovrebbero ricevere una educazione religiosa perché è in chiesa che imparano a conoscere la differenza tra il bene e il male. Parchi e giardini pubblici. I bambini debbono avere divertimenti controllati da persone competenti che sappiano trovare uno sfogo alle sovrabbondanti energie giovanili. Gli appezzamenti fra le case possono facilmente diventare campi da gioco. I ragazzi più grandi hanno bisogno di circoli nei quali sotto adeguata sorveglianza possano riunirsi e divertirsi a modo loro. L'aprizia. Sempre in ogni comunità un corpo di poliziotti abili e comprensivi è della massima importanza. La scuola. È il fattore più delicato in qualsiasi programma di questo genere. La scuola agisce su un maggior numero di ragazzi e per un tempo più lungo che qualsiasi altro organismo. In una buona scuola i ragazzi si interessano a cose utili. Imparano ad andare d'accordo con i compagni, a costruire, ad essere leali e a desiderare non il male ma il bene comune. Ma anche nella scuola migliore ci saranno sempre ragazzi difficili con dei complessi di inferiorità e di persecuzione. Soprattutto quando materie importanti come la lettura e l'aritmetica siano faticose per loro e facili per gli altri. L'insegnante in questi casi deve star sempre con gli occhi aperti e consultare la specialista per quei ragazzi che dimostrano tendenza alla delinquenza. Bisogna studiare a fondo ciascun caso. È importante sapere cosa i compagni pensano di questi ragazzi. Si usa per questo un semplice questionario basato su principi psicologici. Fra i molti metodi per lo studio del comportamento c'è un gioco che spinge i ragazzi a dare un giudizio diretto sui loro compagni. È chiaro quel che i compagni pensano di Carl. Il giudizio di tutti gli altri bambini indica che l'atteggiamento aggressivo di Carl, sintomo di conflitto interno, lo isola dai compagni facendone potenzialmente un caso difficile. Ma questa non è che una fase delle indagini. Altri esperimenti rivelano vari particolari. Inadattabilità, deviazioni dalla norma, difetti di intelligenza e di rendimento negli studi. La disciplina da applicare a questi ragazzi durante il processo di cura diventa un grosso problema in se stessa. Carl, è la prima volta in due anni che si rompe una finestra nella nostra scuola e l'hai rotta tu. E con questo? Beh, cosa ne dici? Cosa dobbiamo fare? Nei casi più complessi è essenziale anche una visita medica. Sono importanti anche le visite dell'insegnante e dell'assistente sociale alla famiglia. Quasi sempre i genitori sono i primi ad avere bisogno di rieducazione, dato il loro fallimento nella comprensione dei problemi dei figli. Spesso occorrono lunghi mesi per raggiungere qualche risultato. Mesi nei quali si insegna al ragazzo a soddisfare gli impulsi che non aveva potuto soddisfare prima e che lo avevano perciò spinto a diventare antisociale. Basta agire in tempo per dare ad un ragazzo destinato alla delinquenza la possibilità di un avvenire felice. Nessuno nasce delinquente e nessuno lo dissolvere problema dei figli. Grazie a tutti.